Maniaci del wrestling, ma soprattutto fan di Impact, in questi ultimi mesi mi sono ritrovato numerosi commenti un po' ovunque dicendo ma perché segui Impact? Cosa ci trovi di tanto particolare in quella federazione morente addirittura? E quindi ragazzi, in questo video, in questo speciale video, andrò a spiegarvi 5 validi motivi per cui seguire questa magnifica federazione. Mettetevi comodi e buona visione. Motivo numero 1, come avete appena letto, la rivoluzione nel wrestling chiamata Tessa Blanchard. E attenzione, non una rivoluzione femminile come quella che abbiamo avuto in WWE qualche anno fa, non ha nulla a che vedere con quel tipo di rivoluzione. Ma forse l'unica donna attuale nel mondo del pro wrestling, o almeno nelle federazioni major che contano, che sta davvero mettendo alla pari il wrestling maschile e quello femminile. Tessa Blanchard ha rinnovato la sfida che abbiamo visto sia in quelli slammiversari quest'estate, che era unbreakable sempre nel mese di agosto, dopo lo steel cage match che abbiamo visto contro Brian Cage. Quindi, probabilmente, forse e in maniera anche abbastanza azzardata, Tessa Blanchard potrebbe andare per il titolo mondiale. Quindi forse, in un futuro non troppo remoto, una donna potrebbe per la prima volta diventare campionessa assoluta della federazione di Toronto. Con quattro pay-per-view all'anno, quindi uno ogni tre mesi, durante gli show settimanali le storyline hanno tutto il tempo del mondo per rievitare e far crescere hype intorno alla situazione. E quindi, ovviamente, la sera del pay-per-view non può che esserci una baraonda nell'arena per l'atmosfera e, ovviamente, anche il lottato, nella maggior parte dei casi, non la eluderà. Detto ciò, la sera del pay-per-view, Impact riesce sempre, e dico sempre, a regalare al fan di wrestling quello che davvero vuole, ovvero un misto fra hardcore, comedy e wrestling puro, che vedremo anche nei punti successivi. Su questo punto potete dire un po' quello che volete, ma si sa, in qualsiasi federazione le leggende portano agli ascolti. Abbiamo, abbiamo, a Impact, come leggende full-time troviamo Tommy Dreamer, ad esempio, tuttavia in quest'ultimo mese, un mese e mezzo, non sta lottando, dati gli impegni in house of hardcore. Abbiamo RVD, che ha recentemente turnato il su Rhino, ad esempio, in quel di Bound for Glory abbiamo visto il tournil di Rob Van Damme su Rhino, e quindi nascerà una rivalità classica della ECW. Abbiamo visto Savu in un one night only, sia a Bound for Glory che nella puntata settimanale prima, quindi ogni tanto vediamo anche la sua apparizione. Abbiamo visto addirittura Onswoggle in quel di Bound for Glory, vi ripeto. Abbiamo visto recentemente, quest'estate, MVP e Chavo Guerrero darsi battaglia in un match in un live event chiamato Unbreakable, a inizio agosto, che anche vi consiglio di andare a recuperare, è stato davvero nulla, nulla male. Troviamo anche Scott Steiner in qualche piccola apparizione, l'ultima, sempre nel mese di agosto. Detto ciò, questo è un punto abbastanza personale, quindi io ci ho fatto il mio pensiero, voi fateci il vostro e fatemelo sapere con un commentino qua sotto. Come vi avevo anche accennato prima, anche il comedy fa da padrone in quel di Impact. E quindi abbiamo visto, sempre nello stesso preview Bound for Glory, il ritorno di Joey Ryan. Per chi non conosce Joey Ryan, vi invito ad andarlo a seguire ovunque, Instagram, Twitter, dove volete, perché è veramente forse il personaggio comedy migliore che io abbia mai conosciuto. Gioca tutto intorno al suo organo genitale maschile, che è letteralmente qualcosa di indistruttibile durante i match, appena applica un paio di gocce appunto sulla sua appendice. Detto ciò, oltre a Joey Ryan, nel recente passato abbiamo visto Glenn Gilberti, per chi magari il fan un po' di vecchia data ricorderà in WCW Disco Inferno degli anni 90, quindi io purtroppo ero ancora nella mente di Dio all'epoca, però il fan più esperto, più della vecchia guardia, può ricordarsi il Disco Inferno della WCW, che durante la prima parte di questo 2019 si era accanito contro le knockouts, le knockouts sarebbero semplicemente le donne della divisione di Impact, che si chiamano knockouts, quindi se andate a seguire Impact e sentite il termine knockouts, non vi spaventate, vuol dire semplicemente divisione femminile. Questo Glenn Gilberti quindi si era accanito contro la divisione femminile, specialmente contro Tessa Blanchard, per cercare di mettere fine al suo push, contro ovviamente l'ironia e l'odio da parte di tutto il pubblico presente nelle arene. E infine, punto numero 5, la X-Division, che spesso ci regala le migliori fight con il miglior wrestling aerobico e dinamico alla conquista dell'X-Division Championship, di cui l'attuale campione è The One Two Ace, Ace Austin. Ace Austin, come abbiamo appena detto, è l'attuale campione, e ha conquistato il titolo proprio in quel leather match che vi ho accennato prima, in quel di Bound for Glory, approfittando della distrazione di Tessa Blanchard. Come ho appena detto, ci sta regalando le fight, le storyline, e anche il miglior wrestling lottato, per chi ama il wrestling un po' più dinamico, per chi magari o forse è abituato a quel genere di wrestling più messicano, quindi se c'è qualche fan della Lucia Libre AAA, mi può confermare. Io sono un fan occasionale, ve lo accenno giusto così. Abbiamo visto recentemente, e probabilmente continuerà, la faida fra Eddie Edwards e Ace Austin, appunto il campione che ha letteralmente, ovviamente, in storyline rubato la moglie, messo le corna ad Alicia Edwards, la moglie di Eddie Edwards. Quindi questa faida si sviluppa anche sul comedy, quindi un altro punto a favore, per il motivo numero 4 per cui seguire Impact. E detto ciò, ragazzi, siamo nel novembre 2019, dimentichiamo quelle brutte voci che circolano ancora sul conto di Impact, di quel 2017, dimentichiamo tutte quelle persone che continuano a dire, diranno ancora, che lo start power di Impact è penoso. Vi ho dato 5 buoni motivi per seguirlo. E voi fatemi sapere la vostra con un commento qui sotto, ovviamente. Se la seguirete, sì, la guarderete anche per curiosità, magari dopo questo mio video, se vi potrà essere d'aiuto. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento nel mio prossimo video. Se volete lasciate un like, condividete, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Detto questo, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ciao.